Distribuzione straordinaria di acqua e sali minerali agli anziani e alle persone vulnerabili. L'aumento delle temperature, compreso il picco della giornata di oggi, rende necessario prendere provvedimenti. Ed è così che dalle 9 di questa mattina l'assessore al welfare Francesca Bottalico, insieme ad Antonio Lascala, presidente dell'associazione PAS e a tutti i volontari, sono attivi per rendere meno pesanti queste giornate. Fa tutto parte del piano anticaldo elaborato da Palazzo di Città solo la scorsa estate, fa sapere l'assessore, sono state 18.000 le persone che hanno perso la vita a causa delle temperature troppo elevate. C'è stato un grosso coinvolgimento, sono già più di 500 anziani che in un'ora abbiamo già collegato e chiaramente si inserisce all'interno del piano cittadino per l'emergenza caldo. Voglio ringraziare i ragazzi dell'associazione che veramente stanno prestando con grande impegno, passione e la loro attività, come dicevo anche in precedenza, non solo fornendo un'attività materiale, acqua, libri, sale minerale, ma anche una mera attività di compagnia. Giovanissimi volontari che hanno trascorso la mattinata tra Pane Pomodoro, Piazza Garibaldi e gli spazi esterni del Polo Sociosanitario per promuovere questa iniziativa. Aiutare comunque chi è in difficoltà è una soddisfazione personale, ma anche per tutti. Quindi ci tenevo anche da più anni a fare questo servizio per garantire a tutti quanti l'uguaglianza che tutti meritano, indipendentemente da problemi motori, fisici o psicologici o anche di età. E non è finita qui sulla spiaggia di Pane Pomodoro con l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli che nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla All Service Bari, società che gestisce il servizio di salvamento, ha sensibilizzato i bagnanti sul rispetto dell'ambiente e sui danni derivanti dall'inquinamento da cicche di sigarette. Nel corso della mattinata sono infatti stati distribuiti gratuitamente circa 300 posacenere portatili. Anche quest'anno, grazie alla disponibilità di All Service, che è la società che gestisce il servizio di salvamento qui a Pane Pomodoro, stiamo distribuendo dei posacenere sulla spiaggia. Innanzitutto perché ci teniamo alla salute di chi viene qui al mare e gli invitiamo a smettere di fumare che sarebbe la cosa migliore. Ma se proprio vogliono continuare a fumare, perlomeno il mozzicone di sigarette non lo devono buttare nella sabbia. Noi troviamo di tutto e di più in spiaggia. La gente non ha l'abitudine di utilizzare i posacenere o di portarsi accanto con sé posacenere portate e attascabile come questo. Quindi cerchiamo di far sì che le cose vadano meglio e che la spiaggia venga fruita in maniera più decorosa. Diciamo. 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 Diciamo.